Ciao amici di Italia Top Games, sabato 17 dicembre, siamo sempre più vicini al Natale, io non vedo l'ora, un po' di ferie mi servono, mi servono assolutamente. A proposito di Natale, lo sapete, mi dovete fare un regalo, un regalo di Natale, ovvero arrivare a quota 14.000 iscritti del canale entro Natale o al massimo Capodanno, mancano 113 nuovi iscritti, se tu che stai vedendo questo video ancora non sei iscritto al canale perché magari ricevi le notifiche su Facebook o su Telegram, iscriviti al canale, se tu sei già iscritto al canale cerca di farlo conoscere a qualche tuo nuovo amico, oppure metti mi piace a questo video come a tutti quelli del canale perché in questa maniera i video arrivano tramite l'algoritmo di YouTube più facilmente a chi è ancora non iscritto e infatti in questi ultimi giorni sono arrivati tanti nuovi iscritti, dai 113 siamo nella media assoluta solita del canale, quindi sbrighiamoci un po' e dai a Natale così festeggiamo in 14.000. Se volete supportare in altro modo il canale sapete che potete fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link affiliazione presente all'inizio della descrizione del video, a voi non costa un centesimo di più rispetto che fare gli acquisti direttamente sulla home o sull'app di Amazon, vanno bene qualsiasi tipo di acquisti, l'importante è cliccare su quel link e poi sapete che potete anche abbonarvi al canale o mandare delle denunzioni una tantum, trovate il tastino per l'abbonamento ovunque e trovate il tastino delle denunzioni sotto il video. Finita l'autopromozione parliamo delle novità di oggi e di alcune osservazioni che voglio farvi. La prima è il pensiero non può che andare a Sinisa Mijailovic che purtroppo ci ha lasciato troppo, troppo, troppo prematuratamente. Sinisa Mijailovic era un giocatore incredibile, un bravo allenatore, era una persona che ha preso delle prese di posizioni che forse non sempre erano condivisibili o meno. Alcune dichiarazioni che ha fatto sicuramente erano divisive, però a differenza di quasi tutto il mondo del calcio era una persona che non si nascondeva dietro un dito e non utilizzava l'ipocrisia, diceva quello che pensava in modo sempre chiaro e netto. Poi non sempre forse tutte le sue dichiarazioni sono state condivisibili, lo ribadisco, ma era ad apprezzare la sua chiarezza e la sua volontà di prendere posizione anche nonostante le conseguenze che questo poteva avere. E questa era una dote quasi unica nel mondo del calcio, se non di pochissimi. Al di là di tutto se n'è andato troppo giovane, è un grande dispiacere perché è sempre un dispiacere quando qualcuno se ne va, ma chiaramente persone famose come Mijailovic uno in qualche modo le conosce da 30 anni, anche se indirettamente. Quindi davvero è stato un grande dispiacere e siccome qui siamo su un sito di football, io mi auguro che Konami, non siamo un sito di football, siamo un sito di videogiochi che parla soprattutto di football, altrimenti succedono fraintendimenti, che Konami possa immaginarsi di inserire Mijailovic come leggenda in e-football. In questo articolo del Mirror di qualche anno fa, di quando PES ha chiuso sostanzialmente, si ricordavano i 15 giocatori più leggendari di PES e c'era anche Sinisa Mijailovic ai tempi dell'Inter. Si ricordava che probabilmente è uno dei migliori calciatori di punizioni di sempre, sebbene in questa versione di PES avesse già 36 anni, il difensore aveva dei parametri incredibili per tirare le punizioni. Quindi sarebbe fantastico, sarebbe davvero fantastico, cara Konami, che introducesse Mijailovic come leggenda in e-football. Saremmo davvero, davvero, davvero tanto, tanto, tanto contenti. Al di là della fede calcistica, qui non c'entra nulla, sarebbe bellissimo avere Sinisa Mijailovic tra le leggende, magari con questi parametri di un vecchissimo PES. Io me lo auguro vivamente e, come dire, lancio questa idea a Konami. Ovviamente sono un piccolo, fra virgolette, influencer, però mi auguro che magari questa idea venga, questa sì, questa può essere ripresa da tutti senza problemi, senza bisogno di diritti. Magari fatela girare anche voi nei gruppi, fatela girare dovunque volete, se magari questa idea diventa virale, Konami forse, forse la prende in considerazione. Poi ovviamente ci sono le questioni dei diritti, ma questa è un'altra storia. Oltre a Mijailovic, volevo parlarvi di questa cosa qui. Ci sono 2000 punti in regalo con la visione dell'International Cup Representative Knockout Stage. Come vedete, qui purtroppo l'Italia non c'è. La campagna inizia proprio oggi, questo è l'orario UTC, quindi inizia dalle 10 di questa mattina, sabato 17 novembre. Sono 2000 punti. Vi ricordo che però, se la vedete sulla versione PC, PlayStation, Xbox e mobile, in totale potete fare 8000 punti, perché, visto che ancora qualcuno me lo chiede, purtroppo non c'è il cross save sui football. Cioè, se la vostra squadra su PlayStation non la potete portare su PC, su Xbox, su mobile, potete farlo solo sulla stessa console di generazioni diverse, ovvero PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, nient'altro. Però i football points sì, sono multipiattaforma, quindi se voi loggate il vostro Konamid, lo stesso Konamid su PlayStation, su Xbox, su PC e su mobile e vi entrate nella pagina che fra breve, io adesso sto facendo questo video alle 8 e mezzo, dalle 10 della mattina, lo troverete in game, sicuramente la schermata dove loggarvi e prendere questi 2000 punti, che ripeto, se la fate su tutte le piattaforme sono 8000 punti. C'è qualche giocatore nuovo, c'è qualche leggenda nei punti football, ci sono il rinnovo dei contratti che adesso ci servono a poco, ma fra qualche mese, quando i contratti scadranno dopo 365 giorni, saranno molto utili. Insomma, io non li butterei via questi 8000 punti e basta fare tutto molto semplicemente. Peccato per la mancanza dell'Italia nel tabellone finale, come vi ho detto, questo ci porterà una retrocessione dalle prime posizioni della classifica generale, staremo un po' a vedere, speriamo che vinca qualche squadra che era molto indietro e che non ci superi. Staremo a vedere, staremo a vedere. E poi ragazzi, volevo parlarvi di due eventi che sono presenti in eFootball 2023 e che hanno qualche tipo di magagna. Uno dato sostanzialmente da Konami senza ombra di dubbio, l'altro si può dire che sia una sorta di concorso di colpe fra Konami e la community. Allora, sto parlando da una parte dei Golden Goal e dall'altra degli eventi che si possono fare con le sim. Allora, il Golden Goal mi state sempre più scrivendo che l'idea era buona, ma sta succedendo che tante persone si fanno l'autogol, probabilmente per avanzare rapidamente nelle progressioni dei pass e che c'è poco divertimento. È colpa di Konami doveva mettere una regola per cui l'autogol non portava alla progressione? Sì, forse no, però, come dire, fare una partita al Golden Goal è veramente questione di minuti. Secondo me, ecco, bisognerebbe sempre che la community avesse un comportamento meno tossico, tra virgolette, perché sì, capisco la progressione del pass, ma io, come dico sempre, gioco ai football o gioco a qualsiasi videogame per divertirmi, per sfidarmi, cioè fare queste cose, cioè non è che è un lavoro giocare ai football che devo portare a casa il pass, anche perché, vabbè, stiamo parlando di punti ESP, stiamo parlando di non chissà quali cose, anche se uno prende il pass, le monete che ti ridà sono meno di quelle che hai speso. Quindi rimango sempre basito da queste situazioni. Io penso che il videogame ci sia per divertirsi in primis, poi tutto il resto viene dopo. Non è che gioco al videogame per farmare e poi per divertirmi. Però questo succede, quindi magari lancio questa considerazione a Konami, ci vorrebbe qualche regola in più per questa modalità Golden Goal. Però, onestamente, non mi sento di colpevolizzare Konami più di tanto, perché questa volta ho fatto una cosa carina, una variazione sul tema carina. Dopo qualsiasi cosa può essere, come dire, utilizzata in malo modo. Invece rimango sempre più basito, e questo sì, questa è colpa di Konami, dall'atteggiamento della mia squadra quando affronto gli eventi dove c'è la possibilità di far giocare l'intelligenza artificiale. In particolare, io faccio le partite per prendere il giro gratis dei giocatori alla settimana e poi farvi vedere chi pesco la domenica mattina. Il video è un po' più rilassante, senza troppi stress. Ragazzi, io oramai sto vedendo che ieri ho voluto fare la prova anche abbassando il livello dell'intelligenza artificiale. La mia squadra, nonostante avesse un overall di sei, tre, quattro, cinquecento punti all'avversario, non squilibrandola, pensando di mettere i giocatori bene con le frecce e tutto quanto, avevo un'enorme difficoltà a segnare. Anche contro l'Australia non mi segnava la squadra. Cioè, cara Konami, allora cortesemente dovresti spiegarci come impostare bene la squadra nelle sim, perché altrimenti non ha senso mettere la possibilità di simulare le partite se tanto poi io devo intervenire e giocarmi una quindicina, venti di minuti, fare due, tre gol e far continuare la sim. Spiegaci cosa dobbiamo fare per far girare bene la squadra, perché altrimenti se io regolo bene tutte le frecce, se io lascio la squadra equilibrata, se io faccio tutto quello che uno deve fare per far girare bene la squadra, abbasso anche il livello di difficoltà, mi sembra che fosse il secondo o il terzo più facile e non segno, c'è qualcosa che quadra che non cosa o qualcosa che non quadra, per meglio dire. Insomma, cara Konami, spiegaci queste sim, come al solito, ci sono tanti buchi di comunicazione, c'è stato anche quello, non so se avete letto, che alcune persone sembrano che abbiano ricevuto le monete, anche se non ho scelto la nazionale giusta, esempio, utilizzando Francia, serie italiano, portoghese, serie spagnola, eccetera, eccetera, perché Konami ha ammesso, alla fine, che non aveva spiegato tanto bene il funzionamento dell'International Cup, qualcuno ci è rimasto male, perché dice ma come, io ho giocato onestamente, non ho sfruttato magari la nazionale più forte dell'Italia e dopo anche queste persone ricevono le monete, hanno ragione queste persone, ma hanno ragione anche quelle altre persone che in buona fede magari non avevano capito che, anche se l'abbiamo detto mille volte, bisognava mettere Italia per noi italiani per portare punti a chi lo ha fatto volontariamente, lascio a voi il commento, ma chi lo ha fatto in buona fede, effettivamente non era neppure giusto che ricevesse le 300 monete e quindi, cioè, da una parte o dall'altra Konami non poteva salvare Capra e Cavoli, ha deciso di salvare, non lo so, o Capra o Cavoli, ma ha fatto ovviamente arrabbiare qualcuno e ha fatto felice qualcun altro, all'inverso avrebbe fatto arrabbiare quegli altri, avrebbe, come dire, non fatto arrabbiare gli altri. Insomma, Konami da questo punto di vista deve migliorare nettamente, io me lo auguro sempre, ma siamo qui da anni a dire sempre più o meno le stesse cose e magari, magari qualcosa prima o poi cambierà. Ce lo auguriamo vivamente, io ancora mi lecco le ferite per l'annuncio ufficiale dell'aggiornamento 2.3.0 rimangiato a distanza di 24 ore, ci sono già stato a parlare parecchio e quindi mi fermo qua. Ragazzi, mi fermo qua in generale per il video, mi auguro veramente che questa idea di Mijalovic leggenda possa girare davvero senza alcun bisogno di copyright perché mi farebbe davvero piacere che accadesse. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo ancora di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere mi piace al video se ancora non l'avete fatto per farlo girare e quindi in qualche modo indirettamente far aumentare gli iscritti. Vi auguro un buon fine settimana, questa sera continua il campionato e stasera dovete assolutamente vedere la prima partita perché a me ha segnato per sempre è stato un trauma, vedetela poi mi dite. Domani torniamo con il video del mattino con il giro gratis, magari vediamo di prendere Neymar per confrontarlo con quello che già ho oppure di prendere un giocatore comunque interessante. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e a presto. Ciao!